25 anni fa in Italia è nata Avviso Pubblico, un'associazione composta da comuni, province, regioni, unioni di comuni, città metropolitane, i cui amministratori hanno la volontà di mettere in atto progetti di formazione civile per prevenire e contrastare mafie e corruzione. L'idea nacque da 14 amministratori locali di diverse regioni e di diverso orientamento politico, i quali capirono che contro le mafie e la corruzione la politica deve giocare la propria parte e giocare la propria parte significa stare dalla parte della promozione dei valori e dei principi della nostra Costituzione. Ad oggi Avviso Pubblico conta più di 500 comuni e 11 regioni in tutta Italia. Cosa fa Avviso Pubblico per sostenere questa rete di amministratori locali? Innanzitutto si preoccupa di informare. Ogni giorno attraverso il proprio sito Avviso Pubblico diffonde notizie e informazioni sul tema della lotta alle mafie e alla corruzione. Abbiamo un osservatorio parlamentare che quotidianamente monitora il lavoro di Camera e Senato, nonché quello delle commissioni di inchiesta, quella soprattutto della commissione antimafia e della commissione sul ciclo illecito dei rifiuti. Ci preoccupiamo anche di formare gli amministratori locali attraverso il nostro dipartimento formazione. Ci occupiamo di non lasciare soli gli amministratori che noi chiamiamo sottotiro, gli uomini e le donne minacciate perché ricoprono un incarico pubblico. Da dieci anni pubblichiamo un apposito rapporto. Questo rapporto in questi dieci anni ha promosso una commissione parlamentare di inchiesta e l'approvazione di una legge che garantisce maggiore protezione a questi amministratori locali. Pubblichiamo libri. L'ultimo è sul tema della pandemia e il gioco d'azzardo. Un altro libro importante è quello che abbiamo pubblicato sul tema dei comuni sciolti per mafia e un altro quello sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso. Abbiamo attivato una banca dati delle buone prassi amministrative che mettiamo a disposizione di tutti i nostri enti soci e ci preoccupiamo anche di sostenere i nostri enti soci per esempio nell'apertura di sportelli di informazione o nella gestione dei beni confiscati. Ecco tutto questo è avviso pubblico. Se volete saperne di più potete digitare il sito www.avvisopubblico.it e seguirci sui nostri canali social facebook twitter instagram youtube e telegram.